La TAV avanza, i problemi anche, il Comune di Senzano è al centro di questa linea, che da Brescia arriverà a Verona e poi proseguirà, il CIP decide, il Comune non sa niente, Guido maniverno, il sindaco di Senzano forse sa ancora meno, perché quello che sa lo sa perché legge forse sulla stampa, però avete deciso di fare un osservatorio, di fare un tavolo di lavoro, insomma di muovervi, non si dice per anticipare perché la cosa ormai va avanti da anni, però perlomeno di essere fra i protagonisti. La questione della TAV è una questione ovviamente molto più importante a livello sia mediatico che di opera rispetto all'entità del Comune di Senzano all'interno di quest'opera. Però ovviamente come tutti i Comuni, Senzano dovrà fare qualcosa in modo tale che la TAV se dovesse passare all'interno dello stesso Comune non crei o crei meno disagi possibile. Questo è l'obiettivo, da qui siamo partiti. Ovviamente prendiamo atto di non avere nessuna notizia che non sognano quelle risposte risposte alle osservazioni che erano state fatte dal Comune a suo tempo in Consiglio Comunale, su alcune piccole modifiche, su alcuni temi critici, ma la sostanza che l'opera comunque è quella che era. Non abbiamo appunto i disegni esecutivi, non abbiamo notizie se non di questa risposta all'osservazione già ancora dal 2014. Visto questo abbiamo pensato tempo fa di capire quali potrebbero essere tutte le problematiche interessate al nostro Comune anche in termini, se si fa l'opera di mitigazione e compensazione che è già la legge obiettivo che ha dato origine alla TAV consente. Per cui abbiamo ascoltato un tecnico di un Comune che è già stato oggetto di passaggio di TAV il quale ci ha raccontato un po' la storia, tutte le varie operazioni connesse, tavoli tecnici, trattative. Abbiamo pensato appunto che questo osservatorio potesse essere interessante per dare, oltre che l'informazione, anche seguire i cittadini nel caso questi venissero espropriati, venissero ovviamente interessati personalmente dall'opera. Questo ci consente di dare un po' più di serenità, se serenità ci può essere a quelli che verranno ovviamente in particolare più di altri danneggiati e anche di consentire al cittadino di avere notizie per quelle che possiamo avere sull'opera, ma anche informazione come ci si deve comportare nel momento in cui avvengono l'esproprio vero e proprio, nel senso che si può anche discutere sull'entità, sulla qualità, sulla consistenza dell'esproprio e anche appunto come amministrazione comunale per ovviamente aiutare i cittadini.